musica 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 ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video io sono Gianmarco insieme a tre sceme che vorrei spagargli la testa ahahahah ancora prima di usare il video io mi alzo e me ne vado sorella famosa applausi no non glielo fa nessuno l'applauso neanche io abbiamo sorella secret che è la gloria e poi abbiamo la ex migliore amica e poi ci sono io che sono la star e siamo qui per fare una burger king challenge discorso come funzionano queste challenge non lo so infatti non ha senso che non hanno senso si inizia a mangiare a random e basta tu inizia a sguardarti e a mangiucchiarti tutto quello che vedi e poi dopo un totta arriva un momento tribal pursuit se si parla delle domande così a random questa volta abbiamo deciso di fare il burger king perchè è più sano che cos'è questa cosa? coquetta zero anche io vorrei una coquetta zero non capisco se sapia di limone o di eh ma perchè mi sa che il burger king non hanno la coca hanno la pepsi sconvolgente ah guardate cosa ho preso delle patatinelle di pulasta vai vai parti subito allora io ne scelgo una io voglio qualcosa con il pulasta abbiamo di tutto abbiamo carne pollo bacon questi sono anelli di cipolla ti piacciono? no sembrano crocantini io non devo limonare con nessuno sono quasi dolcine Martina se vuoi condivido con te un crispy chicken molliccioso ce l'ho già ma come ti permetti fatemi di vedere le pazzesche queste cacchio me le stavo mangiando tutte le patatine non sono più di moda le patatine non sono più di moda perchè qui si fa la moda guarda cosa ho trovato le tue bambine sono le telle di pulastar ma è così triste quelle lì non mi piacciono a me tutte le robe che hanno le ossa in mezzo mi fa venire il brivido come te infatti mi fa venire il brivido anche le costine tipo non le mangio perchè mi sanno proprio di cadavere vero? c'è il momento colpo di scena vai col suono colpo di scena esattamente l'abbiamo qua la bellezza di 10 panini chi ne mangia di più avrà un premio speciale in danaro a video non vale anticiparsi bisogna anche sguardattarseli secondo me c'è qualcosa sotto perchè io mi ricordavo la vincita deve essere fatta con anche il quiz non è che infatti non ci sono cose eccole cioè questo qua è uno scherzo spero perchè mi metti le ossa che ti ho appena detto non mi fa uno schermo mi mette le ossa in mezzo al panino ma cos'è? ma st'insalata qua togli sta bestia è un insulto qua mi piacete perchè non potete aspettare che come finisca un discorso prima di parlare proprio delle megalomani io sono qua a credere che devi mantenere il dibattito chiaro delle tre tre sceme no io no non c'è confronto con il mcdonald a mio parere secondo me è pazzesco questo anche io lo sto mangiando il pane a molliccio guarda che è buono questo è un po' piccantino il mio anche il mio a me è capitato quello sbagliato scusate perchè quello che hai preso? quello con l'insalata marcia è un panino col pollo però versione lunga quando hai tanta fame lo aspettiamo a metà che vuoi? è incredibile perchè sa esattamente dallo stesso panino di prima è vero uguale anche la salsa anche il pane cioè è un'altra forma giulia vediamo se c'è anche l'insalata marcia dentro io sono piena eh perchè purtroppo è questo pane qua oddio si con i succhi gastrici questo qua si gonfia fa smugna fa smugna ma già lo sapevamo ce l'aveva già insegnato è già una pizza vecchia ormai faccio sognare è triplo street ma io non lo mangio diavolo la tosca così magari muore non muore sul serio stavolta non so se avete visto che adesso al mcdonald's non danno più le cannucce lo so è come bevi c'è i sgualotti così in bicchiere l'anzia ha detto che ti riguarda il tappetto e fai così slurpiti però io mi sono domandato ma esistono anche le cannucce di carta eh si ma non ci si squagliano l'ho provata ho capito madonna vuoi dirmi che mcdonald's non hai le possibilità di riuscire a brevettare una cannuccia di carta che non si squagli una cannuccia di carta plastificata magari ma voi non sapete perché il perché delle cannucce si per le tartarughe che gli si filano nel naso ecco e non solo il coperchio non gli si incastra nel naso si ma comunque è plastica io vedo gente in giro che lancia le cose fuori dalla macchina il mio vicino di casa brucia i televisori nell'argine insieme ai suoi materassi sporchi e schifosi lo stai dicendo a un milione di persone non mi interessa ah vuoi che lascio questa scena ma assolutamente accusa pubblica accusa pubblica ok mandiamo la notizia Barbara mi metto in collegamento con te dici che hai una notizia esclusiva Barbara un attimo Barbara carissimi telespettatori stiamo aspettando la nostra collega Barbara in collegamento dall'argine ci dice di un certo tizio che brucierebbe apparecchi televisivi per scopo ludico Barbara Barbara aspettiamo il tuo commento eccomi qua carissimo carissima a te la linea vai siamo qui cazzo di cazzo ogni volta fa sempre le stesse cose io Barbara continua pure si cara siamo omicidio sta tuttando anche la moglie omicidio mandatemi per favore la scritta esclusiva e sopra l'impressione è esclusiva omicidio diretta e spero che questi bambini non vadano buttati via perché ci sono i bambini che muoiono di fame madonna che aggressività di questo video perché nei commenti ogni volta faccio questo video ma no non è vero non ce ne sono tanti invece si io li leggo davvero ma che puttavia ma io domani domani siamo di nuovo qua ma siamo morti di fatti ma che no che no vuoi no fai di là vieni di fuori bevi un po' di succhino anche bevi fuori guarda che ti laviamo eh vedi una mirimella guarda che ti facciamo il bagnetto eeeh ma che squallore ma che squallore ma che roba è il mio video il mio canale è diventato lo squallore di mia sorella giulia comunque io sto guardando qua voi avete fatto un casino macello è impossibile contare i punteggi allora io ho passato tutta questa cosa io ho contato tre panini ma stai zitta ma se ne vedo tre panini sei una lurida mi sembra mezzo hai una carta qua allora adesso non posso mica morire senza dirlo ti passano le domandine eeeh sono scomparse tutte le cose come se non fossero finiti in realtà in un sacchettino e saranno regalati al perdente l'ho deciso prima non si vince niente no praticamente il gioco è e poi alla fine c'è una bella sorpresa c'è il premio c'è qua c'è la alla fine c'è solo una penitenza cioè o ti porti a casa l'immondizia o devi andare in mezzo alla strada a fare la figura del deficiente esatto insomma alla fine c'è sempre da rimettere non è vero c'è tutto da rimettere anche fisicamente brava brava chi vince si becca mille k ma da parte di chi? ma da chi? eeeh no li metti in pallio io perchè sempre tre poveracce ognuno gioca col suo cervello ma dai quindi la gloria parte svantaggiata sappiamo già ma è vero perchè sono state con 75 della maturità ciao 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 ciao! e quindi si sente già tu? no studiata trova bene ma io mi... no c'è non mi spiego ma perchè non ho... beh adesso vediamo Giulia ma è Laura d'onore ma stai a merita ci saranno 10 domande abbiamo creato un gruppo su whatsapp dove ci sono i nostri numeri lì scriveremo ognuno la propria risposta la challenge parte da ora Di che nazionalità era il vittore Paul Gauguin? Svizzera, belga, francese o olandese? Io ho copiato da te come un... E la risposta corretta è... Francese! La capitale del Brasile è... San Paolo, Kingston, Brasilia, Buenos Aires La risposta corretta è... È Brasilia! Chi era nell'antica Roma? Il co-actor Un condottiero Un esattore nelle aste pubbliche Un inventore Un attore comico Esatto Ed è corretto! Siamo tutti corretti! A chi è intitolato lo stadio in cui gioca abitualmente La squadra del Genoa? Ma secondo te? Luigi Inaudi Artemio Franchi Giuseppe Meanza Luigi Ferraris Ma che ne saci? Dai, che ne saci? Io non lo saci sta cosa! Allora sta cercando su internet Ma cosa? Non è così intelligente, Mardi? Vediamo la risposta corretta è... Ferraris Io ho vinto! Quali di questi gruppi non si associa al Glamrock? T-Rex Che è la Martina quando va sui tacchi Ma cos'è il Glamrock? Slade Sweet Eagles Ma cos'è sto Glamrock? È uno stile ignorante E la 13 Ma cos'è scritto 13? Voglio la mia qua La risposta è corretta, eh? Non capisco come... Eagles Come si chiama l'articolo di prima pagina Che esprime il parere del giornale sul fatto del giorno? Spallina Editoriale Orlo Terzo articolo Allora terzo articolo Penso che sia il caso di escluderlo Perché è il terzo Ma perché fei ragionamenti a voci alta? Chi sei dei bordi del tuo opinione? Voglio confrontarmi con voi E la risposta corretta, eh? E il pane o spagliate? E il pane o spagliate? Editoriale Che cosa si misurava con il trabucco? L'altezza La larghezza di un pozzo Le botti per il vino Le superfici agrarie La risposta corretta, eh? Le superfici agrarie Perché io agli agricoltori Le voglio bene In quale città è stato fondato il quotidiano il secolo XIX? Genova, Roma, Milano, Torino E la risposta corretta, eh? Genova! Non è valido Genova, ma al punto non va alla Martina perché ha copiato da me, l'ho visto Dove si produce l'insulina? Fegato, reni, cervello, pancreas Non è vero che hai inviato E la risposta corretta, eh? Pancreas Ma se siete ignorati come il paltano e il pango? E l'ho vinto sempre, non c'è Allora, deve resistere solo uno contro di te e poi lì si fa la sfida Ma l'ho già vinto Già, Giulia, io e te i punti li uniamo tanto Ma cosa vuol dire? Quale squadra vinse il suo quinto campionato di hockey su ghiaccio in dieci anni? Francia, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Canada E la risposta corretta, eh? Io, Repubblica Ceca Ma dov'è la Repubblica Ceca? E abbiamo perso tutti, ma in realtà il vincitore per sempre sono sempre io Dai, dai, continuo, la sto qui Ti lamenti perché sei così ignorante da non vincere mille euro Questo è sfruttamento Questo è sfruttamento Io ho vinto perché sono migliore In più, ogni volta mi vengono promesse delle cose È vero? Premi, ricchi gadget e cotillon Invece non mi tocca mai niente È anche un gadget È anche un becco di un quadrino Va bene? Non è vero, questo gioco è truccato E io d'ora in poi Per qualsiasi gioco al quale parteciperò con te Voglio un giudice di gatto Qua lo dico Scusa, ma adesso io vinco E chi è che mi dà il premio? Facci a meno trovare due vinte E questo è tutto per oggi, pollettini e pollettine Se questo video vi è piaciuto ho messo un pollice su Qui so che ne devo fare altri Scriveteci giù nei commenti Se sareste state in grado di rispondere a queste domande Non come queste, tra ignoranti Sì, se l'avete ancora fatto Iscrivetevi al mio canale Esce un nuovo video di martiriali Quei c'è il sabato alle 10.30 E in tutto il giovedì Ma questo non sa mai nessuno A parte noi che veniamo sfruttati per fare queste cose E taglio scena anche di questo Io vi mando Un bacione su grande grande E al mio prossimo video Ciao 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 Ciao